Ah, benvenuti nell'episodio 4 Sono appena uscito dalla miniera E ho trovato questa cosa che si chiama creative Non capisco ragazzi Eh, fatto sta che ho trovato una nintendo switch Eh, molto bella Eh, ci gioca a fovnite Eh, faccio scala muro, scala muro, scala muro, scala muro Eh, anzi quasi quasi la La, 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 mettiamo Eh, scusatemi ma Il trackpad è rotto Perfetto La mettiamo così Perfetto, continuiamo adesso il nostro let's play Numero 2474 Ah Non lo farei mai più